Buongiorno a tutti, sono Luca Vespignani, sono segretario generale di FPM. Grazie per tutti quelli che stanno partecipando. È già il terzo anno che FPM e DCP, che è una sorta di spin-off di FPM, che si occupa di tutelare i diritti a 360 gradi anche fuori dal mondo della musica, partecipa alla Music Week. Nel corso delle due stagioni precedenti vi abbiamo fatto vedere quali sono i metodi, le tecnologie, gli strumenti, le strategie di intervento per la lotta alla violazione dei diritti per il settore musicale online. Quest'anno sarà leggermente diverso, nel senso che nella seconda parte vi farò vedere quali sono i nuovi strumenti, perché poi ogni anno vengono aggiornati e sono diversi. Però la prima parte quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a qualcosa di un po' diverso, cioè alle nuove professionalità che si sono generate in questo settore. È cambiato tutto, è cambiato tutto. La lotta alla pirateria musicale inizia a metà degli anni 90. Sono passati ormai 25 anni, io opera in questo settore da 25 anni, perché ho iniziato a metà degli anni 90 nel settore del software. Poi all'inizio degli anni 2000 sono passato alla musica e quindi ho assistito un po' a tutto il cambiamento e tanto per intenderci, io ho iniziato con le musiche a sette, oggi siamo ad alcuni strumenti di forte automazione e quasi al limite dell'intelligenza artificiale che poi vi farò vedere durante la presentazione. Quindi vi intanto carico la presentazione. Allora, innanzitutto due parole su chi siamo. FPM è un'associazione di categoria, diciamo parente di fini. FPM si occupa esclusivamente di tutelare i diritti per i produttori musicali, la collecting, gli autori, gli editori musicali. Nasce nel 96 da un'idea di FIMI, quindi la Federazione dell'industria musicale italiana e la IFPI, cioè la Federazione Internazionale dei Produttori Fonografici, e nel corso degli anni tutela a 360 gradi quei diritti. Li tutela facendo azioni di enforcement, quindi azioni dirette per la tutela della musica, facendo comunicazione e presentandosi come interlocutore per le istituzioni e per tutti coloro che a vario titolo sono preposti alla tutela dei diritti di autore. Circa sei anni fa decidiamo di aprire DCP. Per quale motivo? Innanzitutto per esportare le expertise di FPM, quindi i vent'anni precedenti di lotta alla pirateria, ecco che in DCP possono essere offerti anche ad altri settori. Quindi cominciamo a lavorare anche all'interno del mondo del diritto d'autore, per il cinema in un primo momento, poi per i videogiochi, poi per il software, poi per gli editori, e poi esportiamo con l'expertisa anche all'esterno del mondo del diritto d'autore, quindi coprendo un po' tutto il panorama della proprietà intellettuale, quindi includendo per esempio anche i marchi. Vero che sono norme diverse, vero che sono settori diversi, uno che ormai vive di digitale e uno che è ancora fortemente ancorato al fisico, però è anche vero che la transizione al digitale, innanzitutto non della contraffazione, ma poi anche del business legale, fanno sì che poi gli strumenti di intervento siano sostanzialmente gli stessi, o comunque non molto dissimili. Noi iniziamo, come vi ho detto, nel 1996, io specifico nel 2000, e si arriva a un certo punto di questa battaglia quando l'industria musicale è un po' paragonata a una sorta di panda, quindi un essere in via di estinzione. Soltanto dieci anni fa molti davano per morte a questa industria, e motivi ce n'erano, i motivi erano quelli che vedete citati in questa slide, nel periodo fra il 2000 e il 2013 l'industria musicale, nel 2012-2013, l'industria musicale perde il 70% del fatturato. Poi comincia, e comincia a guarda caso, proprio con la profonda rivoluzione all'interno dei modelli di business, quindi il passaggio dal concetto di possesso al concetto di accesso, quindi musica disponibile sempre, dovunque, comunque, e su tutti i device, con modelli di business i più disparati possibili, quindi milioni e milioni di brani digitalizzati e messi a disposizione, download al cosiddetto download alla carta, quindi il primo modello di business del digitale, poi l'avvento di quelle che oggi sono le forme principali di fruizione musicale, quindi lo streaming free o premium, i video musicali, i band, insomma, tutta una serie di nuovi modelli di offerte della musica al consumatore, che però corrisponde nello stesso periodo a una modifica nell'approccio alla tutela dei diritti. Si passa dall'approccio tradizionale, poi vi farò vedere qual era quell'approccio tradizionale, c'è una fase di transizione e poi si va ad un approccio multilivello decisamente spostato verso la tecnologia. Quindi sicuramente il merito principale della crescita dell'industria discografica dal 2013 in poi, vedete che ha guadagnato circa il 40%, è dovuto alla rivoluzione nei modelli di business, però con poca modestia, mi piace pensare che sia anche dovuto al cambiamento nell'approccio alla tutela dei diritti, che ha subito una fortissima accelerazione dal punto di vista prettamente tecnologico. C'è un momento di inizio di tutto questo, probabilmente anche per la rivoluzione nel business legale, sicuramente questo momento è il momento della rivoluzione nell'approccio alla lotta alla pirateria, e dal 1999, quando questi due signori, si chiamavano Sean Fennig e Sean Parker, inventano Napster. Gli effetti non si vedono subito, non è che dal 1999 cominciamo a digitalizzare tutto e ad avere un approccio completamente diverso, però sicuramente quello è il punto di partenza, che obbliga da un lato l'industria musicale a rivedere i suoi modelli di business, ma dall'altro anche ci pone di fronte a nuove sfide, nuove sfide perché cambia completamente il panorama della tutela e della contraffazione innanzitutto e poi della tutela. I due principali fenomeni sono innanzitutto la globalizzazione di quel fenomeno. Fino a un certo punto, grossomodo fino a metà del primo decennio degli anni 2000, la lotta era una lotta locale, i fenomeni di grande contraffazione, la masterizzazione su larga scala, la vendita di prodotti contraffatti, anche i primi approcci alla pirateria digitale erano strettamente italiani, cioè si svolgeva tutto qua. Da quel momento ovviamente si assiste a una sorta di globalizzazione del fenomeno, perché tutti possono accedere a quella musica contraffatta ovunque, perché quelli che consentono al consumatore italiano di scaricare musica qui in Italia, posizionano server all'estero, perché i soggetti coinvolti non sono più soggetti soltanto italiani, ma sono anche stranieri, insomma un'autentica rivoluzione, che ci costringe a fare appunto quel passo verso la tecnologia, un passo fondamentale che inizia grossomodo a metà del primo decennio degli anni 2000. Tanto per darvi un'idea, si passa da questo tipo di attività, questa è una tipica centrale di masterizzazione di fine anni 90, inizio anni 2000, quindi una serie di masterizzatori montati da bene meglio, però come vedete protetti anche magari con sofisticati sistemi come porte blindate, telecamere, circuito chiuso, e si passa a questo. Questi due sono due slide di due strumenti con i quali oggi abbiamo a che fare quotidianamente. Questo è un crawler, cioè un sistema di automazione per la ricerca online di musica non autorizzata, poi vi farò vedere che cosa vuol dire automazione dal punto di vista della ricerca, e questi sono tutti i pannelli di controllo dei diversi sistemi di monitoraggio e di notice and take down. Questo costringe ovviamente chi fa tutelare il diritto d'autore ad una rivoluzione anche interna nelle società, nelle associazioni di categoria che si occupano di tutelare quei diritti, e chiede professionalità completamente diverse. Sostanzialmente all'inizio le professionalità necessarie erano fondamentalmente due, una discreta conoscenza del prodotto e del mercato discografico e una buona attitudine a interloquire con quelle che erano le istituzioni preposte da tutelare il diritto. Vinceva chi si sapeva rapportare meglio con i magistrati, con la guardia di finanza o con istituzioni simili. Ovviamente da un certo punto in poi quella non basta più. E oggi come base è richiesta una conoscenza multidisciplinare. Questa è un tentativo di raffigurare in una slide come viene costruita oggi una società che fa tutela dei diritti. Parliamo della musica ma può valere anche per altri settori che vivono di proprietà intellettuale. Non necessariamente questo corrisponde a delle figure specifiche, cioè non è che operation significa avere una specifica competenza. Tutte queste figure che oggi lavorano nel settore del diritto d'autore e della proprietà intellettuale devono avere quella famosa conoscenza multidisciplinare che dicevo prima. Quindi a parte il settore del management, della direzione e dell'amministrazione, oggi operations, quindi le operazioni a tutela che oggi sono veramente innumerevoli e completamente diverse fra di loro, un dipartimento tech, quindi technology, che oggi è diventato forse il cuore delle società che si occupano di tutela dei diritti, la gestione, perché deve essere sempre una gestione estremamente personalizzata e adeguata a quelle che sono le esigenze di aziende che possono avere delle esigenze completamente diverse, quindi account management e quindi tutela e seguire il cliente nello specifico sui suoi problemi, un forte dipartimento di analisi, analisi dei dati, big data, quei sistemi di automazione che vi ho fatto vedere prima, poi vi farò vedere che tipo di numeri e che quantità di dati generano, quindi diventa necessario saperne analizzare e sfruttare al meglio. La parte di digital investigation, quella che una volta era l'investigazione fisica, quella che conduceva con le famose centrali di masterizzazione che vedevate prima, oggi si è quasi completamente trasferita sul digitale. E poi a latere due competenze estremamente importanti e fondamentali oggi, che sono una parola forse abusata che ha sempre questo aspetto negativo, che in realtà non significa nient'altro che cercare di contribuire ad avere un panorama legislativo il più adeguato possibile, quindi la lobbying, le pubbliche relazioni, tanto più importanti oggi nel momento in cui quelle pubbliche relazioni vengono fatte soprattutto in digitale, cioè sullo stesso terreno dove avviene la contraffazione, e poi delle forti conoscenze legal, se si hanno dei dipartimenti legali interni, oppure paralegali, se si utilizzano studi legali o comunque consulenti legali esterni. Quindi quali sono queste, la base diciamo, poi ce ne sono molte altre necessarie, ma la base di queste conoscenze che oggi vanno a formare il complesso delle professionalità all'interno di un'associazione come FPM o di una società come DCP sono innanzitutto il legale, quindi necessità di avere una conoscenza dello scenario legale in cui ci si muove, una buona conoscenza di quelle che sono le procedure civili e penali, una buona conoscenza delle procedure a prescindere da quello che è il dibattimento, l'eventuale dibattimento o l'eventuale azione penale, quindi procedure durante le fasi di investigazione, durante le fasi di proposta dei servizi alle forze dell'ordine e di assistenza alle forze dell'ordine, e poi una buona conoscenza del legislativo nel complesso, quindi del panorama legislativo tanto italiano quanto come minimo europeo, possibilmente anche di alcuni paesi extra europei, quanto meno quelli chiave. La parte technology, competenze che oggi sono assolutamente necessarie dal punto di vista tech, ma allora solidissime basi di programmazione. Oggi il 95% del lavoro di tutela viene fatto tramite sistemi automatizzati, sistemi automatizzati che per essere efficaci devono essere come minimo adattati alle esigenze della società, ma spesso e meglio direi sviluppati in proprio, quindi avere degli strumenti in house sviluppati proprio sulla base delle esigenze dei vari clienti. delle forti conoscenze di amministrazione di rete, perché? Perché c'è tutta una parte, soprattutto quella che vedete citata dopo quella voce, quindi la forensic, ma al di là di quello le conoscenze di amministrazione di rete, perché poi bisogna avere una approfondita conoscenza delle architetture tramite le quali poi vengono veicolati i file illegali o comunque non sfruttamento illegittimo della musica. E poi delle buone conoscenze di cyber security. Poi c'è il digital, quindi un'ottima conoscenza, è richiesto un'ottima conoscenza dell'ecosistema digitale nel suo complesso. Quindi da un lato dal punto di vista economico, dal punto di vista del marketing, del PR, della tech, non tanto in termini di sviluppo, che era quello che avevo fatto vedere prima, ma quanto dal punto di vista degli strumenti tecnologici che vengono utilizzati dagli intermediari della rete per fornire i loro servizi, che possono essere servizi legali, ma anche servizi che consentono la diffusione e messa a disposizione fruizione di musiche illegali. L'economy, per economy intendevo tutta una serie di questioni legate più ai numeri che all'economia in senso stretto, però comunque vanno conosciuti i modelli di business, nuovi modelli di business legati alla profittata intellettuale, quelli legali, ma anche quelli dello scenario illegale, che qualcuno potrebbe pensare essere rudimentali, in realtà sono in alcuni casi estremamente sofisticati, con l'utilizzo di tecnologie molto avanzate, di sistemi di pagamento e di revenue sharing fra tutti i vari soggetti coinvolti, che sono estremamente sofisticati. Capacità di maneggiare i dati, quindi capacità da un lato di gestire e trattare big data, proprio per il fatto che l'utilizzo pesante di strumenti tecnologici e di automazioni generano una mole enorme di dati, e capacità poi di analizzarne quei dati. In più anche capacità di leggere ricerche, perché molte volte quei sistemi di automazione, quei sistemi di monitoraggio automatizzati, vengono utilizzati anche per fornire ricerche, e non soltanto vengono utilizzati per arrivare allo scopo di rimuovere i contenuti online. E poi la famosa lobbying o advocacy, o come la vogliamo chiamare, o relazioni istituzionali, diciamo che forse è meglio, e quindi capacità di trattare con le istituzioni, ancora conoscenza del panorama legislativo generale, e anche conoscenza di fare massa, come dire, di fare massa in questa lotta contro la contraffazione, quindi la capacità di dialogare a livello interassociativo. Lo abbiamo sperimentato più volte nel corso degli ultimi anni, è ovvio che se tutte le industrie che vivono di proprietà intellettuale o di copyright combattono per questo scopo comune, tanto da un punto di vista dell'interfacciarsi con le istituzioni, ma anche poi su piano operativo, nella lotta quotidiana alle forme di contraffazione, ovviamente il risultato viene massimizzato. L'altro grande cambiamento che c'è stato nelle aziende che si occupano di tutelare, o nell'associazione che si occupano di tutelare l'editoratore, è questo. All'inizio, agli albori di questa attività, i dialoghi e i contatti con i soggetti che veramente subivano i danni della contraffazione, quindi le case discografiche o le aziende che operano in altri settori, in generale le aziende che subiscono i danni della violazione della proprietà intellettuale, i contatti erano estremamente limitati. I contatti tipici di chi faceva lotta alla pirateria erano in genere guardie di finanza e magistrati, e poco di più. Oggi è cambiato completamente tutto, quindi come minimo, ma come minimo, chi fa anti-contraffazione deve dialogare con queste quattro aree all'interno dell'azienda, quindi con l'area legal sicuramente, con l'area del digital, con l'area del marketing e delle vendite, e con l'area della comunicazione. Perché? Perché poi ci sono tutta una serie di attività che possono essere declinate sulla base delle esigenze di questi dipartimenti diversi, alcune sono anche a cavallo fra questi dipartimenti, quindi ai legali si può offrire la Forensic, quindi l'acquisizione forense di evidenze informatiche, si può contribuire con un overview delle leggi, visto che per definizione un'associazione di categoria internazionale ha una visibilità su tutti i panorami legislativi, quantomeno europei, le consulenze tecniche a supporto di azioni civili e penali, ma poi ci sono, come vedete, alcuni settori che sono un po' a cavallo fra i vari dipartimenti, per esempio la Web Reputation, la Web Reputation che oggi va tanto di moda, viene condotta tramite gli stessi sistemi con cui vengono fatti i monitoraggi per la contraffazione. La Web Reputation sta a cavallo fra legal, perché ci possono essere vari profili di natura legale, ma anche poi con la comunicazione, perché per definizione la Web Reputation serve per analizzare, possibilmente modificare meglio l'immagine che quel brand ha. Non entro nel dettaglio degli altri, ma come vedete questa collaborazione può essere declinata veramente su più attività e in più aree. Intanto rispondo subito a una prima domanda, perché mi dicono quali sono le capacità tecnologiche e mezze a disposizione della pubblica amministrazione per contrastare il fenomeno. Mi chiedono se c'è stata evoluzione o involuzione nella pubblica amministrazione. Allora, sì, c'è un bel esempio di evoluzione tecnologica che è il famoso regolamento Agicom. Però poi mi riservo di farlo vedere dopo, perché ci saranno un paio di slide dedicate proprio al regolamento Agicom. Per il resto poco è cambiato, nel senso che in buona misura, quantomeno a livello tecnologico e a livello di preparazione di questi interventi a tutela, è tutto ancora lasciato al privato. Però, insomma, si sta muovendo la pubblica amministrazione e poi vedrete il regolamento Agicom che è un'ottima risposta al fenomeno. Giusto per darvi due dati per inquadrare il fenomeno prima di farvi vedere velocemente qualche slide sui sistemi utilizzati oggi. Perché poi resiste ancora questa identificazione dei reati legati o comunque della violazione alla proprietà intellettuale non vengono spesso definiti come dei reati o comunque delle violazioni minori. Spesso in tribunali ci sentivamo dire beh, ma questo è un reato bagatellare, che era la definizione per dire un reato minore, anzi, a volte serve addirittura da sorta di ammortizzatore sociale. Meglio che vadano a violare la proprietà intellettuale che a commettere crimini più gravi. Guardate questi dati e qui capite perché invece tutelare il settore della proprietà intellettuale e della proprietà intellettuale in genere oggi sia fondamentale. a parte le decine di miliardi dei mancati ricavi e i migliori posti di lavoro persi. Però guardate che cosa, quanto cubano, quanto incidono le aziende ad alto indice di investimento sulla proprietà intellettuale sul PIL. Il 44% in Italia e il 30% in termini di forza lavoro. Quindi definire quello della proprietà intellettuale come un settore minore per il quale forse non è così indispensabile e sprecare molte energie dal punto di vista della tutela mi sembra quantomeno poco appropriato oggi. Dove intermediamo con quei famosi strumenti e automazioni che ho più volte citato? Questi sono i principali settori in ambito musicale dove oggi andiamo a fare tutela. Quindi due classiche aree che sono i cyberlocker e di conseguenza Link Insight che li pubblicizzano e il file sharing che ancora resiste. ci sono tutta un'ulteriore serie di violazioni che soltanto pochi anni fa era impossibile pensare di andare a contrastare o per i quali era impossibile pensare di fare una tutela su base costante. Pensiamo ai diritti connessi per i diritti che vengono riscosse dalla società di collecting pensiamo all'esincro pensiamo al merchandising quindi anche qua perché anche marchi? Perché oggi la discografia vive anche di marchio tutto il merchandising oggi è tanto e quanto contraffatto come il prodotto musicale in sé quindi anche lì è necessario intervenire con questa automazione e poi è un fenomeno totalmente nuovo che in realtà è esploso è esploso in tutta Europa anche in Italia anche se in misura leggermente inferiore rispetto ad altri paesi europei che è lo stream ripping lo stream ripping sono questi siti dove è possibile inserire il link o l'URL di un sito che fa streaming video YouTube tanto per intenderci io inserisco l'URL di un video musicale e quel sito in automatico mi estrae soltanto il file musicale in alta definizione pietre migliari di questa lotta il 99 ve l'ho già citato il 2000 e il 2003 perché viene approvata dalla Commissione Europea la famosa direttiva e-commerce cioè la direttiva sul commercio elettronico che poco ha a che fare con il diritto d'autore in sé perché non cita mai il diritto d'autore o eventuali violazioni dei marchi però identifica e riconosce le varie responsabilità in capo agli intermediari della rete quindi merconduiti, caching e gli hosting quindi questo vuol dire che definisce il regime di responsabilità di chi ci fornisce la connettività e quindi di coloro grazie ai quali riusciamo a scaricare e di chi ospita non del pirata ma di chi ospita il sito del pirata questo è fondamentale perché da un certo punto in poi questa è la norma questo è il decreto legislativo italiano che è quello del 70-2003 che ha recepito quella direttiva europea questa è la norma che viene utilizzata sempre e comunque per intervenire sulle violazioni online quando oggi voi leggete sulle news di un sito vengono utilizzate mille termini molti dei quali anche sbagliati da un punto di vista tecnico sito sequestrato sito inibito sito messo offline sito oscurato bene, che sia per il diritto d'autore quindi per la musica o per qualsiasi altro reato dalla pedopornografia alle frodi sulle carte di credito alla diffamazione al terrorismo bene, viene utilizzata questa norma che consente alle forze dell'ordine e alla magistratura di imporre il blocco dei siti quindi inibito non l'accesso salto paradevi e viti junkie non voglio entrare in discussioni estremamente tecniche dal punto di vista legale sono stati i primi due casi in cui sono state utilizzate in cui è stata utilizzata quella norma e poi si arriva alla situazione di oggi in qualche maniera non ci sono più gli amici di una volta e neanche i nemici però nel senso che anche qui c'è stato un radicale mutamento del tipo di approccio alla lotta alla pirateria fino a un certo punto si andava soltanto a cercare o il pirata o gli utenti finali quindi bene il pirata gli utenti finali un po' meno bene perché ovviamente questo comportava l'utilizzo di strategie di interventi estremamente invasive ricorderete forse a metà del primo decennio degli anni 2000 quante critiche per la discografia perché magari vengono denunciati gli utenti finali pensate soltanto all'attività della RIA negli Stati Uniti che andava a chiedere una compensazione del danno direttamente agli utenti finali oggi è completamente cambiato lo scenario e la partita non si gioca più con gli utenti finali ma si gioca con i grandi intermediari della rete e la grande lotta dico è stata perché spero che con quello che accadrà nel giro di pochi mesi questa lotta venga completamente ridefinita ma la grande lotta è stata quella di bilanciare diritti e doveri dei differenti player bilanciamento che fino ad oggi era stato completamente sbilanciato scusate un gioco di parole in favore degli intermediari della rete cioè tutti gli intermediari che consentivano la diffusione di musica illecitamente diffusa e guadagnavano guadagnavano del denaro grazie a questa diffusione questa messa a disposizione erano totalmente esenti da qualsiasi responsabilità per un incrocio per un incrocio curioso di varie norme la direttiva e-commerce altre norme a livello locale insomma la piattaforma che consentiva quella diffusione non poteva essere caricata da nessun tipo di responsabilità e quindi anche da lì però veniva la necessità di andare sugli utenti finali oggi questo è stato messo in discussione è stato messo in discussione innanzitutto una serie di sentenze e l'Italia da questo punto di vista è stata un po' una sorta di case history perché le sentenze migliori e più innovative da quel punto di vista sono arrivate proprio in Italia e poi in teoria ci sarà la grande rivoluzione la grande rivoluzione che è la direttiva copyright che è stata approvata per la prima volta in settembre del 2018 dalla Commissione dell'Apamento Europeo che dovrebbe essere anzi dovrà essere ricepita in Italia entro tre anni da quella data si sta lavorando proprio in questi mesi siamo quasi addirittura all'arrivo e questa direttiva copyright rappresenta veramente una rivoluzione totale dal punto di vista della tutela dei diritti perché è esposta completamente l'asse della responsabilità gli utenti finali continueranno a rimanere responsabili nel caso di fondano musica illegalmente però c'è una chiamata alla responsabilità netta e ben precisa delle piattaforme la direttiva dice chiaramente che i prestatori di servizi di condivisione fanno un atto di comunicazione al pubblico e dal punto di vista legale fare un atto di comunicazione al pubblico significa essere responsabili dei contenuti che vengono diffusi quindi insomma lo scenario ci si augura che cambierà ulteriormente cambierà ovviamente in meglio per i titolari e i diritti queste sono le famose tecnologie che vengono utilizzate oggi quindi si parte sempre da una base che è costituita da technology automazioni il più possibile spinte quindi monitoraggio 100% automatizzato una fase di validazione che però è necessaria soprattutto in fenomeni diversi dalla durazione di diritti in campo musicale è necessaria soprattutto per i marchi può essere automatizzata al 100% anche nella fase di validazione e un 100% di automazione nell'invio di rifide cosa vuol dire invio di rifide vuol dire che oggi il 95% dell'operatria come viene abbattuto monitorando rilevando le violazioni e approfittando in parte di quello che viene imposto dalle norme in parte dalle policy sul rispetto del copio delle piattaforme viene immediatamente inviata una notifica con la richiesta di eliminare quei contenuti questa è una schermata appunto del nostro sistema di automazioni tanto per intenderci i numeri sono questi questo è l'estratto di un nostro crawler quindi soltanto uno che cercava i prodotti in una casa discografica che cosa è riuscito a fare? è riuscito a fare 422.000 interrogazioni web in 4 ore dove sta la rivoluzione qua? la rivoluzione sta nel fatto che non è nulla di esoterico o di fantascientifico un sistema di questo tipo semplicemente automatizza tutto quello che un umano potrebbe fare quindi quello che io riuscirei ad ottenere con centinaia di persone chiusi in una stanza con centinaia di computer che continuano a cercare preparano mail da spedire alle piattaforme compilano forme online per dare emozione ecco che viene fatta in maniera totalmente automatizzata senza nessun intervento umano a questi ritmi quindi a ritmi di 400-500 mila interrogazioni web potenzialmente è illimitato il potere di queste automazioni fa 400-500 mila interrogazioni perché in questo momento la nostra banda nei nostri server e le nostre macchine virtuali consentono quello ma potenzialmente ne potrebbe fare anche milioni in interrogazioni web vado un po' avanti perché a questo punto vi faccio vedere il regolamento Agicom così rispondo anche alla domanda che la siete fatta questo è un ottimo esempio di come la pubblica amministrazione può contribuire alla tutela del diritto dell'autore bloccare un sito non è un'operazione banale se lo si fa per via civile o per via penale ci vuole molto tempo una preparazione non indifferente perché vanno preparate le forze dell'ordine e il magistrato sul civile è tutto un po' più facile adesso perché i legali ormai la parte della formazione tecnologica dei legali è decisamente aumentata nell'ultimo periodo però poi bisogna stare ai tempi della giustizia che possono essere più o meno lenti il regolamento Agicom consente di bloccare i siti massimo in 12 giorni in alcune occasioni in due giorni quindi Agicom ha messo a disposizione una piattaforma dove addirittura i singoli ma in generale i titolari dei diritti possono segnalare dei siti che mettono a disposizione contenuti illeciti e a quel punto Agicom interviene chiedendo la rimozione selettiva dei contenuti se questa rimozione non viene accettata e portata a termine dalle piattaforme ecco che Agicom impone a tutti i programmi italiani di bloccare l'accesso a quel sito è un ottimo esempio come vi dicevo guardate gli effetti questo è un esempio questo è una slide preparata da IFPI quindi dalla nostra associazione internazionale che ha monitorato gli accessi dall'Italia ai principali siti di stream ripping quelli che consentono di rippare la parte musicale di un video beh guardate a 12 mesi dalla segnalazione ad Agicom che cosa è successo c'è stato un calo del 94% in termini di utenti che accedono a quelle piattaforme quindi anche qui impatto della tecnologia perché poi è ovvio che il singolo può segnalare ad Agicom nel nostro caso abbiamo tutta una serie di automazioni che fanno degli scraping molto veloci dei siti quindi identificano molto velocemente le opere da segnalare e poi possono gestire in automatico anche tutta la fase di segnalazione ad Agicom vi cito soltanto qualche quasi scuola ve lo cito vi cito questo perché questo è un ulteriore passaggio verso delle forme di tutela molto più efficaci molti non conosceranno questo signore questo signore è un arzillo ottantenne piemontese si chiama Leandro Borgai che negli anni 70-80 va in Brasile in vacanza e decide di rinunciare alle sue attività che vengono in Italia per l'agenzia assicurativa e si compra i diritti su tutte le telemovela brasiliane che negli anni 70-80 ovviamente spopolano e lo rendono miliardario nel momento in cui li vende i principali network beh lui ha il coraggio di fare quello che molte aziende molto più grosse non hanno mai avuto e cioè quello di denunciare google e youtube perché adesso che quelle telemovela ne guarda più nessuno lui non genera più profitti però si accorge che tutti le caricano in forma estremamente diffusa su youtube illegalmente ovviamente lui sfida youtube in tribunale e vince perché incredibilmente il tribunale dà un'interpretazione di quella violazione che sembra quasi un preambolo alla direttiva copyright perché perché riconosce youtube come una forma nuova di hosting provider hosting provider in base a quelle norme che vi ho fatto vedere è esente da ogni tipo di responsabilità il giudice dice ma assolutamente no tu non puoi essere considerato un hosting provider passivo e neutrale indicizzi suggerisci agli utenti sistemi contenuti in playlist e soprattutto guadagnare i soldi dalla pubblicità la maggior parte dei soldi dalla pubblicità quindi tu non puoi essere considerato neutrale sei responsabile e poi fa il passaggio al notice and stay down questo è fondamentale allora quel lavoro che vi ho fatto vedere prima cioè quello dei monitoraggi e dell'invio delle notifiche per la rimozione bene che cosa siamo costretti a fare? siamo costretti a mandare tante notifiche per quante sono le violazioni a prescindere dall'opera violata cosa vuol dire? vuol dire che se io rilevo nell'arco di un anno mille volte la stessa opera sulla stessa piattaforma di streaming io devo fare mille notifiche segnalare mille volte quella stessa opera lo stay down in luogo del take down prevede invece che io segnali la prima volta quell'opera dimostri che io ho dei diritti su quell'opera dopodiché è responsabilità della piattaforma evitare nuovi caricamenti bene lui l'ha ottenuto in tribunale la nuova direttiva copyright lo prevede e quindi le piattaforme saranno obbligate a tenere giù i contenuti questo sarà una tentativa rivoluzione perché il 90% dei file che noi inviamo le inviamo su opere già segnalate sulla stessa piattaforma stiamo parlando di andando per difetto cioè eliminando anche i casi in cui l'opera non sia proprio la stessa vorrebbe dire evitare di spedire 2 milioni e mezzo di notifiche all'anno ci sono poi alcune altre sentenze e attività giudiziarie che hanno costituito un unicom l'Italia veramente è stato un caso a scuola da questo punto di vista quindi e riconoscere se non vanno nei dettagli legali però di fatto in alcune cause Mediaset contro Vimeo Mediaset contro Facebook Mondadori contro alcuni Austin Provider Sky e la Lega Calcio sulla diffusione illecita delle partite di calcio sulle IPTV illegali beh hanno ottenuto tutta una serie di misure che sono veramente innovative i blocchi entro due giorni risarcimento dei danni molto pesanti le penali l'obbligo da parte dei provider di adottare una serie di misure di prevenzione quindi da questo punto di vista l'Italia finalmente forse è diventata un po' noi siamo sempre stati inseriti in ogni possibile lista dei cattivi al mondo in termini di contraffazione da quelle dell'Ox a quella del governo americano a quella della commissione europea eravamo sempre considerati come una delle patrie della contraffazione messi di fianco a Cina Taiwan e pochi altri paesi oggi veniamo quasi unanimemente considerati come un paese all'avanguardia nella lotta della pirateria e questo mi piace pensare insomma che sia dovuto allo sforzo condotto in tutti gli ultimi anni da un punto di vista legale dal punto di vista della lobbying dal punto di vista dell'impegno su tutti i fronti e dal punto di vista anche dell'adozione di tecnologie veramente innovative per cercare di frenare questo fenomeno io non vado oltre nella presentazione però intanto vedo un'altra domanda allora sì mi chiedono se coinvolgere autori e dare feedback diretto a loro dei dati su tutta la catena degli attualizzatori i gestori delle opere dei music provider etichette metadati allora quando si parla di condivisione dei dati bisogna sempre stare molto attenti nel senso che uno dei problemi che è nato con la digitalizzazione dell'attività di antipirateria e l'utilizzo dei sistemi informatici in maniera così di automazione così pesanti è il problema di stare sempre molto attenti a non andare a violare alcune norme principalmente privacy e norme sui reati informatici quindi siccome si è sempre al limite dell'abuso di sistemi informatici intrusioni quindi bisogna prestare particolare attenzione quindi quando leggo scambio di dati già un po' mi preoccupo però sicuramente sì nel senso che più dati si hanno e meglio è è un po' come dire insito nella natura di questi sistemi io più ho dati in pancia nei miei sistemi per poter monitorare in maniera efficace e più i risultati saranno ovviamente migliori quindi sì qualsiasi dato da aggiungere alle basi dei monitoraggi è sicuramente utile per riuscire a fare un'attività molto più efficace ecco pensate anche che oggi le automazioni prevedono noi stiamo sviluppando per esempio tutta una serie anche qui comunicazione poi col cliente o con l'associato stiamo sviluppando tutta una serie di dashboard dalle quali sarà possibile andare a vedere addirittura in tempo reale i risultati raggiunti quindi insomma le automazioni non stanno servendo soltanto a massimizzare l'effetto dell'operazione antipirateria ma anche a creare un canale di comunicazione molto più aperto e molto più ricco con i titolari dei diritti ecco visto che ancora qualche minuto non vedo arrivare altre domande chiudo dicendovi una serie di cose allora spero che sia emerso da quello che vi ho fatto vedere che questo è stato un lavoro estremamente lungo ed estremamente complesso siccome oggi molte volte sul mercato o comunque in generale si sentono molti soggetti che vanno a dire noi abbiamo uno strumento definitivo risolviamo il problema in pochi clic accediamo di qua facciamo intrusioni da altra parte ecco attenzione perché questo è un settore non è un settore dove non ci sono le soluzioni definitive i veri risultati positivi si ottengono con un lavoro fatto come vi ho spero di avervi fatto capire dove confluiscono più discipline più conoscenze più competenze è un lavoro a me quanto meno a medio raggio forse anche a lungo è fatto di tante attività che devono essere customizzate su esigenze del cliente arriva un'altra domanda mi chiedono se è meglio conoscere il diritto o meglio saper gestire i dati oppure bastano competenze informatiche e direi tutte e tre nel senso che competenze informatiche sicuramente perché ci deve essere qualcuno all'interno delle aziende che sa sviluppare e sa sviluppare bene attenzione che lo sviluppo non è una cosa banale da questo punto di vista nel senso che l'efficacia di un sistema non si basa soltanto sulla qualità della programmazione la programmazione deve essere fatta in funzione dei risultati che devono essere raggiunti quindi a monte della programmazione informatica ci deve essere una conoscenza di quelli che sono i target che dobbiamo andare a colpire quindi l'informatico del caso è opportuno che conosca molto bene il sistema e l'ecosistema della pirateria musicale per quello che riguarda il diritto e saper gestire i dati sicuramente saper gestire i dati nel senso che noi oggi abbiamo milioni e milioni e milioni di risultati provenienti dai monitoraggi ogni singolo mese quindi saperli gestire tanto da un punto di vista informatico quanto da un punto di vista della lettura di quei dati è diventato fondamentale sulla questione legale dipende nel senso che questa è una mia idea credo che le aziende e le associazioni che si occupano del diritto d'autore non debbano avere un dipartimento legale interno credo che i legali devono essere sempre esterni però il punto è che per chi lavora in questa associazione è molto spesso indispensabile dialogare con i legali esterni dell'azienda e questo presuppone ovviamente che un minimo di conoscenza non definirei neanche legale forse para-legale sia necessaria e non faccia che bene all'azienda anche perché con la sola informatica non si riesce a risolvere tutto quindi e con l'informatica come vi ho detto prima deve essere piegata le esigenze della lotta alla violazione dei diritti quindi direi che la parola d'ordine è multidisciplinare più conoscenze si hanno e vi ho detto che da base sono legal tech e digital queste sono le tre aree fondamentali e ovviamente non si può pretendere che un professionista di questo settore le conosca a tutte e tre in maniera profonda però magari un informatico è opportuno che abbia delle basi sulle leggi che presiedono al diritto autore così come chi gestisce i dati è opportuno che abbia un minimo di conoscenza informatica quindi direi multidisciplinare io se non ci sono altre domande a questo punto avrei finito non so se arrivano altre domande ok allora io vi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato ringrazio Milano Amgess Week che come al solito si è rivelato un evento meraviglioso anche quest'anno nonostante tutte le note difficoltà del momento grazie a tutti grazie davvero grazie a tutti